Proseguono spedite a Isernia le operazioni di voto per eleggere i nuovi rappresentanti di Camera e Senato. Scheda dopo scheda si riempiono le urne nei seggi. Presidente di Seggio Bertoni, come stanno andando le procedure di voto? Abbastanza bene, da questa mattina alle 7 l'affluenza è continua, malgrado il maltempo che stiamo vivendo adesso, però la gente viene tranquillamente, viene a votare ed va spedita in cabina, non chiede nessun tipo di modalità di voto, ma va e sa già come deve votare. Per ora quindi non si registrano intoppi nelle votazioni? Assolutamente nessun intoppo, tutto lineare, la procedura va spedita, siamo in linea con i tempi. Tra gli elettori ci sono tanti giovani che si recano a votare per la prima volta e c'è anche chi, invece, di votazioni ne ha viste già tante e ha voluto sottolineare la sua data di nascita. Il 26, 3, 33. E anche oggi qui nei seggi per ribadire l'importanza del voto? E ha la sua importanza, penso che lo ha per tutti qua, speriamo solo che fanno le cose belle, questo ci auguriamo, non per noi che già abbiamo un'età, per voi giovani.